Allora possiamo riprendere, adesso in questa parte facciamo un po' un excursus di tipo più culturale e economico sul tema della responsabilità sociale e la sostenibilità, che come vi dicevo io uso abbastanza come sinonimi, per poi domani ritornare più su questioni tecniche, anche perché diciamo che questo tipo di informazioni, oltre a arricchire la vostra cultura di comunicatori o di gestori di organizzazioni, può essere anche utilizzata per argomentare i motivi per cui è bene che le imprese, anche italiane, comincino a occuparsi di questi temi. Allora diciamo che il motivo per cui fondamentalmente ci si deve, ci si dovrebbe occupare di responsabilità sociale e di sostenibilità sono di due ordini di motivi, alcuni motivi di natura morale, perché qui inevitabilmente, sapete, l'economia è una scienza sociale, cioè i primi economisti erano i filosofi, quindi adesso è diventata un po' la scienza dei numeri, è andata in mano ai finanziari e forse anche il motivo per cui siamo un po' inguaiati, ma da sempre l'economia si è sempre intrecciata con l'etica. Tra il resto diciamo che l'Italia ha anche avuto una tradizione economica importante che poi è stata, hai messo, piantata da quella inglese, da quella scozzese, che era quella dell'economia sociale. Io ho studiato con Stefano, con il professor Zamagni, che insegna a Bologna e che per esempio è stato il presidente dell'agenzia delle Onlus, sapete no, questa agenzia che purtroppo hanno chiuso, perché tra tutti gli enti inutili è proprio quello che hanno chiuso, forse era almeno inutile di tanti altri, ma comunque diciamo stare, e lui è sempre stato un economista molto orientato al sociale, tanto per dirvi è uno degli estensori dell'enciclica del Papa che si occupa di questi temi, perché Benedetto XVI, quando era Papa, ha scritto Caritas in Veritate, che è l'enciclica della Chiesa sulla sostenibilità. Sapete che anche la Chiesa si è occupata di economia, la teoria sociale della Chiesa, con l'enciclica di Papa, non mi ricordo più quale, all'inizio del secolo scorso. Qui dicevo, sei sempre intrecciata, e Zamagni ha scritto un bellissimo libro, tra cui vi ho portato anche i riferimenti bibliografici, e lui parlava di economia civile, e noi eravamo dei pensatori romagnosi e altri che erano figli dell'umanesimo fondamentalmente, quindi il pensiero economico italiano era fortemente orientato al valore della persona, quindi veniva dalla tradizione umanistica. Poi, per una serie di motivi storici, che qui dobbiamo per forza condensare, ha prevalso il filone anglosassone, quello utilitarista, quello degli Smith, quelli di Bentham, cioè quelli che hanno cavalcato il filone, pensando sempre alla filosofia positivista, perché hanno proposto l'economia come scienza esatta matematica. Questa, a farla proprio stringente, è stata la ragione per cui l'impostazione anglosassone ha prevalso. Per cui loro, mentre la nostra era una scuola più di tipo umanistico, letterario, eccetera, la loro era fatta di funzioni matematiche, in quel tempo ovviamente c'erano i lumi francesi positivisti, per cui è nata la scienza esatta e anche l'economia è stata proposta come scienza esatta e da qui curve di domande, offerte, equilibrio, però l'etica è sempre stata legata all'economia. Ecco per cui, se volete, la responsabilità sociale ci rituffa in questo rapporto e quali sono stati motivi che in questi ultimi anni hanno portato a riprendere questa tradizione? Sicuramente la crescita a livello dimensionale delle imprese, perché oggi l'impatto delle attività aziendali multinazionali è superiore a quello di certi Stati, cioè noi siamo sempre stati abituati a pensare che di certi temi se ne occupassero gli Stati, i diritti umani, la giustizia, l'ambiente. Ora, una multinazionale come Nestlé o come altri grandi multinazionali che comprano materie prime sui paesi in via di sviluppo come il cacao, a seconda delle politiche di prezzo, sono in grado di determinare le condizioni di vita di decine di milioni di persone, più di uno Stato. Il prodotto interno lordo, i fatturati delle principali aziende, oramai si collocano ai vertici in termini di classifica di prodotto interno lordo. Certo, gli Stati Uniti hanno un prodotto interno lordo di miliardi di dollari, ma una multinazionale che fattura 400-500 miliardi di dollari è grande 50 volte nello Stato africano. Quindi se decide di investire in un certo modo piuttosto che in un altro, impatta in maniera massiccia su quelli che sono tra virgolette dei temi che fino all'altro ieri erano gestiti a livello politico. Quindi il tema che un'impresa, qualunque cosa essa faccia, impatta a livello sociale ed ambientale attraverso prodotti e servizi utilizzando forza lavoro eccetera, è un tema che ha portato alla ribalta questo tipo di argomentazioni. Se uno si appassiona di queste cose va a vedere nei vari mercati, per esempio leggevo uno studio qualche anno fa secondo il quale gli incentivi dati dagli Stati Uniti ha un numero ristretto di coltivatori di cotone americani, parliamo di qualche migliaio di coltivatori, creava delle condizioni di dumping, cioè di sottosviluppo per qualche decina di milioni di coltivatori di cotone del paese in sud del mondo. Cioè senza andare troppo lontano una mucca italiana prende più soldi di un abitante del Burkina Faso, il famoso euro o dollaro al giorno come unità di misura della povertà mi pare di ricordare che ogni mucca che calpesta il sacro suolo italiano riceva dalla comunità europea un paio di euro al giorno, quando un abitante del Burkina Faso probabilmente con due euro al giorno si direbbe benestante. Quindi queste tematiche ci propongono la nostra coscienza inevitabilmente. Quindi queste tematiche dimensionali legate alla globalizzazione creano questi disequilibri perché chiaramente questi temi sono figli del fatto che molte aziende delocalizzano in posti dove queste tematiche legate ai diritti umani, allo sfruttamento degli abitati eccetera non hanno la protezione legislativa che abbiamo qui. Per cui assistiamo agli scandali che via via hanno coinvolto le multinazionali, quindi cose di dominio pubblico, vi ricorderete la Nike con le scarpe, i palloni da calcio cuciti dai bambini pakistani o del Bangladesh, non mi ricordo più. Quindi queste sono poi le tematiche che hanno portato anche le coscienze a interrogarsi su questi elementi. E come dicevo prima è sempre più diffusa l'idea che in fondo queste aziende, queste grosse aziende non debbano rispondere esclusivamente a chi ha messo il capitale, ma debbano rispondere a una vasta platea di soggetti che sono i consumatori stessi, gli abitanti dei paesi in cui queste aziende operano, i fornitori eccetera eccetera. Perché ripeto, lo vediamo nel caso delle aziende pubbliche, il fatto che lo Stato italiano paghi i suoi fornitori e gli chiede magari le tasse crea un problema non solo etico ma di sopravvivenza economica, per cui tu Stato chiedi le tasse a un'azienda che lavora con te ma non la paghi da due anni. Quindi questi intrecci poi si traducono in aspetti di tipo morale ed etico. Poi ci sono delle motivazioni invece più strettamente legate a fattori competitivi e strategici, per cui c'è questo intreccio tra la convenienza e la morale. Quando si parla di competitività e di strategia, cosa significa? Significa fattori che vanno a impattare sulla capacità di un'impresa di stare sul mercato. Allora, la responsabilità sociale, se praticata, ti può ad esempio consentire di anticipare quelle normative che poi possono disciplinare in modo cogente il comportamento delle imprese sui mercati. Prima il vostro collega mi ha fatto una domanda molto pertinente sulla normativa conosciuta in Italia come modello 231. Il modello 231 del 2001 è un dispositivo di legge che di fatto ha disciplinato la responsabilità penale degli amministratori di società per i reati commessi nell'esercizio delle loro attività anche dai dipendenti. Caso classico, la corruzione di un funzionario pubblico da parte di un'impresa che lavora negli appalti. Infatti molte imprese che si sono dotate di queste disposizioni lavoravano con la sanità. Caso, mi pare, scuola fu quello della Siemens che venne condannata a non lavorare con il sistema sanitario pubblico perché scoprirono degli atti di corruttela. Allora, questo modello 231, che è figlio di scandali fondamentalmente, che cosa fa? Disciplina da un punto di vista etico il comportamento delle aziende e prevede l'adozione di un codice etico. Quindi è nata una legge nel 2001 che dice, cara impresa, se tu vuoi evitare di essere condannato come responsabile delle azioni di alcuni tuoi dipendenti, mi devi dimostrare di aver adottato un modello gestionale che prevedeva determinati comportamenti etici e mi devi dimostrare di averlo messo in piedi e di averlo fatto applicare. Quindi nel caso di un reato, se tu mi dimostri questo, questa cosa, dicono i giuristi, è esimente. Vale anche per la sicurezza sul lavoro. Pensate a un incidente mortale, pensate al caso Thyssen Group. È chiaro che l'incidente può essere causato da moltissimi fattori. Può essere causato dal fatto che non sono state messe in pratica delle norme di sicurezza sul lavoro. Quindi c'è una responsabilità che cade in capo al responsabile aziendale. Oppure può essere successo perché effettivamente quel dipendente malgrado avesse ricevuto delle istruzioni, malgrado avesse ricevuto una formazione, malgrado avesse ricevuto degli strumenti per proteggersi, non li abbia utilizzati. Quindi è stato lui a incorrere nell'incidente mortale. Allora, se tu hai un modello 231, l'hai implementato, dimostri di formare le persone, tra virgolette, poi avere la possibilità di essere, come dire, ritenuto meno colpevole di quello che saresti nel caso invece di assenza del modello 231. Allora, le imprese che si sono già mosse anticipatamente su questi temi si sono già trovate pronte in un certo senso, perché avevano già capito che curare la sicurezza sul lavoro era un valore non solo perché c'era una legge che te lo imponeva, ma perché avevano una visione di responsabilità verso i propri dipendenti. Quindi il valore di una vita è impagabile o perché ovviamente un incidente mortale ti blocca gli impianti, per n motivi, l'hanno fatto prima e si sono trovati pronti. Queste normative cambiano in continuazione. Ad esempio, due anni fa è entrata in vigore la parte che riguarda i reati ambientali, perché fino all'estate del 2011, mi pare, i reati ambientali non facevano parte della 231. Poi nell'adeguamento anche il governo italiano, ci sono poi anche movimenti internazionali, queste norme negli Stati Uniti sono nate in seguito allo scandalo Engron, forse qualcuno di voi ricorderà, quella grande multinazionale che fallì perché falsificava i bilanci, tipo Parmalat. E lì è nata la legge Sarban-Oxley che penalizza il comportamento di questo tipo. Poi, anno dopo anno, ci sono degli aggiunti che vengono aggiunti. I reati ambientali non ne entravano, per cui uno teoricamente poteva anche inquinare che la gravità, certo che ci sono ovviamente le leggi di tutela, però non gli ricadeva quel tipo di responsabilità. Da quando i reati ambientali sono entrati nella 231, a noi ci hanno chiamato un sacco di aziende per dire metteteci in regola. Quindi modificate il modello 231. Quello che sta avvenendo adesso, per esempio, è l'adarguamento della 231 alla legge anticorruzione. Capete che l'anno scorso, penso a fine dell'anno scorso, è entrato in vigore una legge anticorruzione in Italia. Ci hanno litigato un po' sopra e i partiti poi l'hanno applicata. Allora, questo decreto anticorruzione, ovviamente disciplina il reato specifico e da lì sta nascendo addirittura lo chiamano un rating di legalità, cioè le aziende che dimostrano di applicare in modo corretto questi principi ricevono una valutazione positiva, un rating, quindi un punteggio, che consente loro di accedere meglio e prima ai contributi pubblici e anche avere degli sconti sui tassi di interessi praticati dalle banche. Montante è nato perché queste sono poi leggi che cercano di far che cosa? Di disciplinare quello che dicevo prima, il comportamento opportunistico, perché è chiaro che se chi si comporta in modo irresponsabile, non ha un danno o non ha nessuna conseguenza negativa, veramente le cose sono lasciate alla coscienza dei singoli, mentre per farli diventare fattori competitivi e strategici nel momento in cui diventano leggi, quelli diventano elementi che ti fanno chiudere un'attività o mantenerla in vita, oltre che avere delle agevolazioni come vi dicevo. Un altro elemento di natura competitiva e strategica è il fatto che il concetto di valore, come noi lo intendiamo, che è ovviamente prevalentemente collegato al concetto economico, tant'è che si dice rapporto prezzo qualità, gli americani dicono value for money, cioè ti do dei soldi, mi stai dando qualcosa in cambio che vale, sta progressivamente allargandosi dalla dimensione economica a quella sociale ed ambientale. Non per far pubblicità ai miei clienti, però insomma pubblicità in armi e al commercio, il progetto Riomare si chiama qualità responsabile. Il suo concorrente Asdomar, se vi ricordate la pubblicità, fa qualità e rispetto, perché il concetto di responsabilità sta diventando un ingrediente che il consumatore ricerca nel prodotto, mentre un tempo cercava solo la tenerezza che si tagliava col famoso grissino, vi ricordate, o il colore di un certo tipo, è nata ed è cresciuta una sensibilità tale per cui oggi compro il tonno se è dolphin save, cioè se non l'hanno pescato con tecniche che ammazzano i delfini, perché uno dei problemi della sostenibilità della pesca non è solo quello di portare all'estinzione del pesce, ma anche del cosiddetto bycatch, cioè della pesca incidentale, perché quando tu tiri su, ci sono diverse tecniche di pesca, ma quando tu usi queste reti che si chiamano Pursain, voi siete in un porto di mare, quindi io sono trentino, vorrei dire stupidate, quindi correggetemi, però siccome stiamo parlando di pesca oceanica, quindi loro cosa fanno? Cercano i banchi di pesce con tutte le diavolerie del mondo, ecco scandagli, sonare, satelliti, poi tirano giuste reti che poi circuiscono il pesce e tirano su di tutto, anche e soprattutto quando mettono sugli oceani i cosiddetti FAD, i FAD sono Fishing Aggregator Device, cioè sono delle piattaforme, voi pescatori lo sapete bene, che sotto ci metti un galleggiante e sotto il pesce si aggrega, loro mettono questi grandi galleggianti in mezzo all'oceano e sotto si trova di tutto, tartarughe, delfini, non solo i tondi, per cui uno dei problemi degli ambientalisti è pescatolo oppure il tonno che ce n'è, perché non stiamo parlando del tonno rosso, quello ovviamente mediterraneo, lo sapete meglio di me, è praticamente il mio estinto, ce n'è ancora però pochissimo, insomma le famose mattanze di Favignana le hanno chiuse da un bel po', quello di cui stiamo parlando è il tonno tropicale, penna gialla, skipjack eccetera, ce n'è, ce n'è, però se per tirassù dei tonni mi tiri su le ultimi esemplari della tartaruga, carretta, carretta, oliuto, quello è un danno ambientale, quindi la gente non vuole mangiare un pesce che ha creato questo danno, poi il delfino in particolare è il pesce per antonomasia, mangiare un delfino sembra mangiare un cane o un gatto, per cui poi diventa antropomorfa la cosa, quindi sempre di più il concetto di qualità entra ambientale sociale, pensate a come è cambiato il concetto di qualità nelle automobili, una volta era la prestazione, il motore, la velocità, oggi è la sicurezza, è anche, è chiaro che se la macchina non va, però è anche la sicurezza, è la CO2 emessa, infatti tutti, più basso, limite di emissione, di categoria, cioè si cominciano a vedere nelle pubblicità delle argomentazioni che fino a pochi anni fa erano impensabili, perché il consumatore dice senti io vado in macchina, però voglio avere la coscienza tranquilla che con la mia macchina inquino meno dell'altra. Un altro elemento fondamentale, questo purtroppo l'Italia sembra non capirlo, è che la capacità competitiva delle imprese dipende dal contesto sociale in cui l'impresa opera, ma secondo voi è un caso che alla Silicon Valley ci sia quel popò di industrie, ok? Google, Apple, eccetera. Avete sentito mai parlare di Princeton, la più grande università di matematica del mondo, dove insegnava Einstein? Cioè ci sarà un motivo per cui in una valle vicino a San Francisco, dove ci sono queste università, è nata la più grande industria dell'elettronica del mondo, perché Google si basa su degli algoritmi, Sergey Brin e Larry Page, due fondatori di Google, sono due figli di due matematici, perché Google è un algoritmo, cioè ci sono schiere, migliaia di ingegneri che studiano degli algoritmi matematici per far sì che le nostre ricerche siano sempre più veloci, sia sempre più performanti, oltre a leggere il testo, legano le immagini, e lì sono cervelli, per cui la ricchezza, quella vera, quella competitiva, nella famosa catena del valore degli stati, se volete, mentre il secolo scorso o due secoli fa si basava sulla proprietà di materie prime, quindi erano ricchi gli stati ricchi di materie prime, lo sono ancora, perché chiaramente paesi come l'Unione Soviera, Russia, così, vivono anche di questo. Poi c'è stato un periodo della trasformazione e noi siamo cresciuti con quello, perché l'Italia, materie prime non ne ha mai avute, ha avuto la capacità di trasformare, noi siamo stati la Cina degli anni 60-70. Il problema è che non siamo riusciti a fare il passaggio e passare l'economia della conoscenza, per cui là dove ci sono cervelli, le imprese sono più competitive e c'è quella sorta di, chiamiamolo, capitale sociale che si spiega solo con la presenza di persone che hanno competenze, che hanno passione, che hanno le cose che servono per l'economia della conoscenza, che parliamo di brevetti, parliamo di industria farmaceutica e l'Italia purtroppo queste cose le aveva, perché l'Italia aveva, poi lo vedremo, i primi computer li ha inventati un signore, si chiamava Adriano Olivetti, mica Bell, compagnia Bella, no? E' andata come è andata e Cuccia ha detto che i computer servivano a niente e gliel'ha venduti agli americani. Quindi anche i grandi economisti geni possono fare degli errori, avevamo la plastica, il brevetto della plastica, il premio numero della plastica era natta, era un fisico della Montedison, mica… quindi ne abbiamo perse di occasioni purtroppo, se ci troviamo in questa condizione è anche perché non siamo riusciti, il mio modesto parere, a trasformare la nostra industria produttiva in un'industria più culturale della conoscenza. Per fortuna si può recuperare, perché ovviamente non siamo il Bangladesh, con rispetto a parlando per il Bangladesh e di test ne abbiamo. E questi elementi che vi sto dicendo sono i cosiddetti fattori intangibili, che si riflettono sempre di più nelle performance delle imprese, perché oggi un'impresa certamente deve saper produrre a dei prezzi bassi, cioè non è che se uno spreca energia, spreca risorse, è competitivo per l'amor di Dio, però oggi le imprese sono quelle che hanno conoscenze, sono quelle che brevettano. Purtroppo il declino industriale dell'Italia lo si poteva vedere, prevedere anni fa, perché se uno andava a vedere la statistica dove si collocava l'Italia nella registrazione dei brevetti, scalava posizioni e quei brevetti si trasformano in nuovi prodotti, in nuove soluzioni. Tu non hai brevetti, cosa puoi fare? Solo produrre quello che ti fanno produrre gli altri, ma quello lo fanno in Cina a un prezzo più basso del nostro. Quindi le conoscenze, il capitale relazionale, cioè il fatto che ci sia una società coesa, non conflittuale, dove la gente collabora, coopera per un obiettivo comune. Questo è un elemento che puoi solo creare con la fiducia, la fiducia tra persone, la fiducia tra aziende e aziende, la fiducia tra aziende e istituzioni. In Italia ci sono degli esempi positivi di questo, che purtroppo non sono sistematici, ma i famosi distretti, dove anche qui ne avete alcuni, citavamo prima in Puglia il distretto dei mobili, dei divani, eccetera. Piccole e medie aziende che da sole non ce la farebbero, ma che unendosi creano delle competenze assolutamente impareggiabili da livello mondiale, perché magari investono insieme nella ricerca e sviluppo. Ma se delle imprese temono di farsi concorrenza tra di loro e non cooperano, sono destinati a perdere, perché la concorrenza vera è quella fuori, non è quella dentro. Se noi non abbiamo fiducia tra di noi e piuttosto che vedere il nostro vicino di casa primeggiare, preferiamo morire anche noi, questo è un po' un limite anche degli italiani individualisti che a volte non hanno questo spirito di corpo. La reputazione è fondamentale, noi stiamo a galla perché ancora il made in Italy in certi settori è reputato il migliore. Quando uno dice il cibo italiano, la moda italiana, una volta c'erano più cose italiane, c'era il cinema italiano, c'erano tante cose. Oggi purtroppo non godiamo di buonissima reputazione e quindi di conseguenza nei mercati mondiali il prodotto italiano viene scartato a favore di qualcos'altro. Quindi non è che la reputazione si costruisce dalla sera alla mattina, è figlia di tutta una serie di elementi. Oggi la reputazione è figlia anche di queste cose perché, ripeto, nei mercati più evoluti il consumatore preferisce comprare una cosa che venga da una certa storia piuttosto che da un'altra. Poi ci sarà sempre quello che compra il prezzo più basso, cioè, intendiamoci, non è che, anzi, oggi forse i mercati si stanno proprio biforcando, cioè o tu sei competitivo sul prezzo e quindi reggi perché sei performante, perché lo produci magari in Cina e in altri posti oppure senza andare troppo lontano. Vedete anche da noi la grande distribuzione. I discount, tutto sommato, se la cavano e crescono, no? I supermercati che non sono né carne né pesce perdono perché la gente ha capito che forse spendere quell'X% in più per avere un certo tipo di servizio, che poi alla fine cosa me ne frega, prendo la roba direttamente dal pallet, la metto nel cestino e me la porto a casa, anche se non ho lo scaffale imbellettato, fa niente. Quindi dicevo, gli aspetti reputazionali sono fondamentali. Dall'altra parte invece ci sono magari prodotti cosiddetti alto di gamma, no? Quelli, dei, delle persone benestanti perché nella crisi economica, ahimè, i ricchi sono diventati sempre più ricchi, ahimè, insomma, fortuna loro, non è che li invidio, però diciamo, le classi abbienti sono sicuramente aumentate in termini di capacità di acquisto per cui se uno va a vedere la Ferrari gode di ottima salute, no? Cioè, fortunatamente perché se andasse in crisi pure quella. Chiaro che la Ferrari non è la Fiat, la Fiat di Ferrari ne contiene in pancia 27 perché la Ferrari fatturi qualche miliardo di euro rispetto agli 80-100 miliardi che fattura la Fiat, ecco. Però ci sono tanti esempi, diciamo, di eccellenza che riescono a resistere, ecco. Allora, tutto questo ragionamento, da dove nasce? Allora, il titolo di questa slide non c'è molto di più sfuggente del concetto di CSR, sta per corporate social responsibility, ma che non si sia capito, perché in effetti anche noi stessi, quando ci troviamo, noi stessi, quando parlo di me, dei miei colleghi, noi facciamo sto mestiere, non tutti si occupano di corporate responsibility, alcuni sono magari degli ingegneri ambientali che sono molto bravi a fare quelle certificazioni che vi dicevo, eccetera. Allora, ti rendi conto che ognuno è un po' come l'allenatore della nazionale, no? Cioè, ognuno ha la sua idea, no? Giustamente, sul calcio ognuno ha la sua idea, come sulla moda o le canzoni. Ecco, qui cerchiamo di fare un po' di ordine, perché è vero che nell'etica ognuno ha la sua visione, però fondamentalmente le cose di cui stiamo parlando nascono da quattro ceppi, che sono quelli che vedete qui, cioè le teorie strumentali, cioè le teorie che dicono la corporate responsibility aumenta la competitività delle imprese, quindi è strumentale, funzionale, ha l'obiettivo di essere più competitivi sui mercati, che credo sia una delle cose che interessa a voi o a chi di voi si occupa di comunicazione di l'impresa. Ci sono poi delle teorie di natura politica che si basano sostanzialmente sul concetto che tra impresa e società deve esserci un contratto, un patto. L'abbiamo visto nell'articolo 41 della Costituzione, cioè l'impresa è l'iniziativa privata e libera di dispiegarsi purché non si svolga in contrasto con l'utilità sociale. Eccolo il patto. Io ti lascio produrre, questa è l'economia di mercato, perché è chiaro che nell'economia socialista, sovietica, comunista, non c'è la libera iniziativa privata, lì il concetto è completamente rovesciato, quindi qui non facciamo teoria economica, facciamo ragionamenti diversi. Quindi esiste un patto, però questo patto deve essere a beneficio della società. Ci sono poi delle teorie cosiddette integrative, secondo le quali questi ragionamenti fondamentalmente integrano delle domande che arrivano dalla società, dai consumatori, nell'impresa, quindi sono un po' se volete figlie vicine a quelle strumentali, perché c'è sempre una convenienza aziendale, cioè perché lo fai? Lo fai perché ti viene chiesto se, come succede appunto a molti nostri clienti, i responsabili della grande distribuzione dove tu vendi prodotti, ti dicono guarda che prima di discutere di prezzo dobbiamo capire come sei messo dal punto di vista della sostenibilità e questa ormai è la norma nei paesi inglesi, tedeschi eccetera, tu ho torto collo e dici vabbè dimmi che vuoi sapere da me che mi metto a posto, quindi ti fanno le domande sul fatto da dove arriva l'olio, cosa lo concimi, non lo concimi, usi anticrittogrammi, perché dice i miei consumatori vogliono saperlo, ok? E poi invece ci sono le teorie etiche, cioè va fatto perché è giusto, punto, cioè i valori vengono prima di qualunque altra cosa che si possono applicare in quasi tutte le organizzazioni non profit, perché un'organizzazione non profit nasce perché ritiene giusto che sia fatta una cosa, ritiene giusto lottare per la tutela di un ambiente, per salvaguardare i bambini, per sconfiggere una malattia, per tanti fini nobili, ovviamente le azioni sono strumentali a quel fine, per cui se un'azione è in contrasto con quel fine, teoricamente non la dovresti fare. Poi adesso avete visto che sembra che sulla lista dei famosi evasori che hanno i soldi alle Cayman ci sia anche l'Unione Italiana Cecchi, che per l'amor di Dio non c'entra niente con la cecità il fatto di avere i soldi alle Cayman, però uno si aspetta un comportamento, no? Oppure ci sono un po' di onlus, per cui uno dice, beh insomma, i soldi, oppure quando succedono queste cose, guardate il famoso scandalo dello York, uno si aspetta che dalla chiesa non ci siano, come dire, dei comportamenti altamente speculativi, no? Perché dice, ma come, proprio tu, cioè me lo posso aspettare da uno speculatore di borsa che sta a New York e che ha solo i soldi in testa, ma che qualcuno decida di investire in un fondo che magari rende di più perché finanzia gli armamenti, sicuramente la cosa a molti di voi, cristiani o non cristiani, credenti o non credenti, farebbe specie, ma come? Cioè, se i valori della Chiesa dicono che bisogna essere contro la violenza, tu in nome del fatto che guadagni di più finanzi l'industria delle armi, no? Oppure, oppure viceversa, non finanzi, che ne so, un'industria farmaceutica che fa anticoncezionali, ma come mi predichi, che la vita è sacra e poi, siccome quell'industria lì ti dà più rendimento, metti sotto terra i tuoi valori e finanzi, compri le loro azioni, anche se queste azioni poi servono, anche se questi soldi servono poi per fare ricerca sulle staminali e compagnia bella, no? Eccolo qui, stridono. Per cui questi fondamentalmente sono i quattro ceppi che hanno originato questo ragionamento e dietro questi quattro ceppi ci sono decine e decine di studi, qui adesso ne vediamo alcuni molto rapidamente. Allora, le teorie strumentali sono quelle che vi serviranno di più, perché occupandovi voi di aziende, comunicando, eccetera, è chiaro che un imprenditore deve sempre vedere queste cose come gli tornano utili a livello di risultato economico, quindi scusate gli inglesismi, non li ho tradotti, però queste cose denunciano un po' anche l'origine di questi ragionamenti, però i concetti che oggi vado per la maggiore sono bisogna creare valore per gli shareholder, cioè per gli azionisti, oppure bisogna share value, creare valore condiviso, quindi bisogna creare dei modelli che producono valore per l'azionista, per il dipendente, eccetera, eccetera. L'obiettivo è quello di avere un vantaggio competitivo per l'impresa e per tutti quanti i suoi azionisti. vi faccio degli esempi subito, così li capite meglio. Quali sono le teorie strumentali? Le ho già citate prima, la Toyota Prius. Io faccio le auto ibride non perché, ma l'ha detto il WWF, faccio le auto ibride perché oggi credo che la domanda nelle grandi città non si può più entrare, vedete a Milano, io ho preso l'auto, l'ho presa perché ci credevo, però il fatto che oggi ce l'ho mi consente di entrare nella famosa area C che avete sentito nominare di Milano, dove se non hai un'auto con determinate caratteristiche non entri, paghi, perché chi inquina paga, ok? Quindi è diventato un fatto di coscienza che si sta sposando con un fatto di competitività, per cui puoi girare con le macchine. Quindi l'auto ibrida significa minori consumi, tecnologia innovativa, significa un valore percepito dai consumatori e quindi oggi chi ha l'auto ibrida vende di più di chi non ce l'ha, un po' perché tira il segmento dell'auto ibride, un po' perché questa tecnologia lo sta, come dire, ammantando di elementi positivi su tutto il resto. Un altro esempio è il cosiddetto bottom of the pyramid, che cosa vuol dire? Allora, le aziende, nel mondo quanti siamo? 6 o 7 miliardi, non mi ricordo mai, siamo un sacco di gente, no? Allora, sostanzialmente quelli che sono consumatori, diciamo, con un tenore di vita occidentale, saranno forse meno di un miliardo, ok? Non è che gli altri 5 miliardi vivano nella fame, sono realtà a cui si possono dare prodotti o servizi, ovviamente con una logica diversa, che è che deve partire dalla base della piramide. Vi faccio un esempio, l'avete sentito nominare il microcredito, immagino, di Muhammad Yunus, premio Nobel. Chiaro, lui ha fatto una banca per persone a cui le banche non avrebbero mai prestato una lira. Lui non regala i soldi, li presta, ok? E non li chiede in donazione a nessuno, perché ha messo in moto un meccanismo che ovviamente, prima di tutto, non ha quei costi gestionali che hanno le banche, che ha aperto le filiali nei villaggi del Bangladesh. Sapete come fa? Trova un referente del villaggio, un gruppo spesso di donne, che sono più responsabili degli uomini, a cui presta dei soldi perché ha scoperto che spesso la loro indigenza nasce dalla mancanza degli strumenti basilari del loro lavoro, che può essere veramente una macchina da cucire, perché in quei paesi quello fa la differenza, cioè tu dai l'80 al 90% del valore che hai creato a quello che ti presta la macchina da cucire. Con 30 dollari ti compri una macchina da cucire, hai svoltato, ok? Quello è un sistema bottom of the pyramid. Un altro esempio, credo sia Allianz, Allianz, famosa compagnia di assicurazioni, ha creato una polizza che costa un dollaro all'anno. Voi direte, io cosa me ne faccio di una polizza? Io niente, ma un contadino del Bangladesh che se gli viene una malattia prende 200-300 dollari di risarcimento se ne fa molto, perché 200-300 dollari è lo stipendio di un anno, di sei mesi. Allora è chiaro che se tu ragioni sempre in una logica, passatemi il termine, filo occidentale, per cui una polizza di assicurazione o costa 1000 euro o non sta in piedi, queste cose non le farei mai. E queste cose sono, come poi definirle? Sono filantropia? No, perché si fanno pagare. Muhammad Yunus, insieme alla Danone, ha fatto delle fabbriche per fare dello yogurt additivato con delle sostanze nutritive particolari che viene dato ai bambini del Bangladesh che soffrono di tantissime malattie per malnutrizione. Non glielo regala, se lo fa pagare, cioè mette queste persone in condizioni di comprarlo al prezzo che sono in grado di pagare. Perché è chiaro che se gli dà il bifidus attivo che costa un euro a bottiglietta, cioè un euro è lo stipendio di un giorno, non ne vende manco uno, ok? O lo vende al Marajà di turno, ok? Lo farà pagare un centesimo, due centesimi, ok? Lì c'è la forma di una caramella. Unilever, che non è una società filantropica, è una delle più grandi multinazionali del mondo, che fanno cibo, eccetera, ha prodotto una caramella che contiene degli elementi nutritivi particolari che viene venduta nei paesi via di sviluppo perché assumendo questa caramella i bambini assumono delle sostanze che altrimenti non mangerebbero. Procter & Gamble, che è il competitor di Unilever, ha fatto un prodotto che si chiama Pure, che è una polverina magica che viene venduta che serve per rendere potabile l'acqua non potabile. Tutti questi esempi sono esempi in cui non stiamo parlando di filantropia perché non è l'ONG che regala, stiamo parlando di aziende che in una logica, non dico di profitti perché su questi non ci fanno molti profitti, ma in una logica di guardare lungo dicono ma se io creo delle condizioni migliorative per questi mercati può darsi che fra dieci anni avrò delle condizioni che mi consentiranno di vendere lo yogurt col bifidus attivo, perché stiamo parlando di miliardi di persone che si trovano in condizioni oggi decisamente lontane dalle nostre. Poi la cosa bella è che su questi progetti spesso le non profit e le profit si equalizzano, perché non so se è nato l'uovo prima o la gallina, magari la non profit che ha aperto gli occhi alla multinazionale o è la multinazionale che sentendo tutti questi ragionamenti, teorie, come dire, apre gli occhi, ma di fatto spesso in queste operazioni troviamo profit e non profit insieme, senza andare troppo lontano, qui vicino, insomma in Italia a Siena c'è un laboratorio fatto mi pare dalla Sanofia Ventis, che è una compagnia farmaceutica e medici senza frontiere per realizzare dei farmaci a dei costi particolarmente diciamo, vantaggiosi per quelle che sono le malattie più comuni nei paesi in via di sviluppo, malari eccetera, sapete il dibattito sull'accesso al farmaco nei paesi in via di sviluppo, recentemente c'è stata anche una sentenza, mi pare indiana, che non ha riconosciuto il diritto di brevetto, non mi ricordo più di quale, di Novartis su un anticancro, quindi chiaramente ci sono, allora un'azienda può decidere di far causa e magari perderla oppure tra virgolette cambiare l'atteggiamento, ok? Altri esempi di teorie strumentali, ecco il mio amato WWF Golia Bianca, cioè il course related marketing è, se volete, una delle attività, domani lo vedremo un po' più nel dettaglio di approccio strumentale alla responsabilità sociale, se volete anche più banale che ci sia, perché io ti dico caro consumatore, se compri questo prodotto sostieni una causa, quindi questo prodotto diciamo si arricchisce di tutta una serie di elementi di valore grazie a quella causa. In questo modo abbiamo fatto, abbiamo anno perché io ero un povero ragazzo di bottega e ho solo imparato dai miei colleghi di WWF che facevano queste operazioni, perché parliamo di 15-16 anni fa, però nel caso di Golia Bianca si trattava di una caramella che tra virgolette stava un po' uscendo dal mercato, era un po' come si dice in termini tecnici alla fine del suo ciclo di vita, sapete che anche i prodotti come gli esseri umani nascono, si sviluppano, se crescono bene raggiungono successo e poi a un certo punto il consumatore non ne vuole più. Nel caso specifico uno degli argomenti era lo zucchero, erano gli anni in cui basta zucchero, no? Perché prima eravamo nati poveri e io mi ricordo da ragazzino mangiavo tutto quello che era zucchero, dopo basta zucchero, carie, si ingrassa e noi abbiamo fatto continuare a mangiare caramelle con zucchero perché salvavano l'osso bianco, hai capito? Allora dal punto di vista marketing è un bel riposizionamento quello di dire guarda, sto prodotto guardalo con un occhio diverso perché aiuta questa causa, cioè è molto potente il course related marketing come strumento di comunicazione e come vi dicevo all'inizio qui vedete dei casi famosi però veramente lo si può applicare a tutti i livelli, io lo consiglio come uno degli strumenti di comunicazione sociale, etica più semplici da utilizzare perché sia la non profit che finisce come dire su un prodotto può avere dei grossi benefici di comunicazione raccolta fondi, sia l'azienda, chiaro ci deve essere sia da una parte che dall'altra un atteggiamento non demonizzatore verso la pubblicità e il marketing perché per l'amor di Dio io mai, cioè qui comunque sei finito su un pacchetto di cicche, tanto per intenderci no? Che non tutti, soprattutto in molti enti non profit lo ritengono dignitoso, no? Quindi il marketing spesso ben usato come sinonimo di operazioni poco pulite, è un'operazione di marketing, un marabio come un'operazione di marketing, sembra che sia la truffa, no? Cioè no, il marketing è una disciplina sacra, onesta che serve per mettere in collegamento un'azienda col consumatore, cioè come tutte le cose può essere fatte in modo onesto, trasparente e corretto oppure no, invece c'è il nodo di dire ah è un'operazione di marketing come se dietro il marketing non ci fosse niente, no? Ecco, un altro esempio di teorie strumentali è quello che lega i prodotti al commercio ecosolidale, il fair trade è il marchio internazionale del commercio eco, no? Moltissimi prodotti che arrivano dai paesi in via di sviluppo, cacao, caffè eccetera, oramai vengono da queste fonti, no? Perché prima hanno cominciato le organizzazioni non profit, gli enti di cooperazione a dire attenzione che lo sfruttamento intensivo dei fazenderos che fanno il caffè è la causa del sottosviluppo di intere regioni, ok? e quindi lo vendevano nelle bottegucce, ci saranno anche qui, ho visto del commercio eco, eccetera. Dopodiché hanno cominciato a capirlo anche le multinazionali e oggi non c'è azienda del settore che non abbia la sua linea fair trade. Illy, ad esempio, è stata forse una delle prime e tantissimi anni fa ha lanciato un progetto che si chiama In principio, che fu anche ripreso da quel famoso fotografo Salgado, non so se fece dei bellissimi reportage e fondamentalmente Illy che cosa ha fatto? Vabbè, Illy sapete, forse il caffè, io non sono un degutatore, io bevo il caffè ma non sono un esperto, comunque sembra che sia uno dei caffè più buoni che c'è sul mercato, quindi sia vero oppure no comunque ha questo posizionamento. Quindi Illy ha sempre fatto della qualità il suo punto di forza e questa qualità anche giustifica un prezzo più alto. Illy non ha detto ai fazenderos vi pago di più perché sono diventato buono e ha detto guardate, io ho bisogno di prodotti di qualità io vi insegno a coltivare il caffè di qualità, ha fatto dell'università, ha fatto dei programmi di formazione e in cambio di questo, vostro impegno, vi pagherò di più il caffè. Quindi ha importato, come dire, le regole del commercio equo che sono riconoscere un prezzo più equo al prodotto, dare delle condizioni di pagamento non da strozzini, addirittura anticipare parte del pagamento perché sapete benissimo che nell'agricoltura semini oggi e raccogli fra sei mesi. Quindi ha fatto proprio tutta una serie di regole ma in cambio ha voluto degli standard qualitativi e questo gli ha consentito di migliorare ulteriormente la qualità del prodotto che magari prima comprava sui vari mercati, sulle varie borse mondiali delle derrate perché insomma noi conosciamo le borse azionarie ma queste materie prime sono trattate come di più anzi in questi ultimi anni c'è stata un'esplosione dei prezzi che è incredibile perché sicuramente il cibo è una risorsa scarsa. Quindi sono teorie strumentali perché comunque l'impresa lo fa per ottenerne qualcosa in cambio in maniera onesta e trasparente, non c'è niente di male secondo me, poi magari qualcuno di voi potrà obiettare e quindi questo come dire sposta un po' i confini e unisce l'impresa a quella che potrebbe sembrare un'organizzazione non profit, tant'è che si parla di social business, si parla di modelli diversi. Veniamo invece alle teorie politiche, le teorie politiche sono quelle in cui fondamentalmente l'azienda diventa citizenship, cioè cittadina, quindi l'azienda è vista come un cittadino, vero e proprio, un diritto di cittadinanza. Allora l'esempio più eclatante di questo è quello di Olivetti. Olivetti, non so chi di voi conosce la sua storia, ci sono tantissimi libri che la raccontano, aveva una sua visione particolare dell'impresa come motore di sviluppo e ancora oggi è letto, guardato, studiato come modello che aveva soprattutto come riferimento il territorio. Infatti lui editava una rivista di urbanistica, lui si è sempre occupato del rapporto tra imprese e territorio. un amante del bello, se volete, non a caso aveva assunto presso la sua azienda architettico come Ettore Sozzas, che è stato uno dei più grandi designer del mondo. Ci sono ancora molti manager che sono formati alla scuola Olivetti perché lui è morto nel 59, quindi c'è gente che magari oggi c'era un'ottantina d'anni ma che aveva cominciato a lavorare in quei tempi e aveva una visione incredibile. Io, ripeto, ho letto recentemente un discorso che ha tenuto, che nel 50 è rotti agli operai di Pozzuoli, di Napoli, dove lui diceva fondamentalmente, siccome lo so che il lavoro che fate è alienante, perché comunque no, si cominciava a prendere coscienza che la catena, qui parliamo di catena di montaggio, era pesante, anche se la catena di montaggio era nata prima della guerra per rendere più agevole il lavoro, perché prima era ancora peggio, si cominciava a parlare di alienazione. Allora ha detto, io ho costruito una fabbrica bellissima fatta a Pozzuoli nel Golfo di Napoli con le vetrate perché voglio che comunque il vostro lavoro sia il meno pesante possibile e in queste fabbriche città lui dava servizi sociali per i figli, scuole, una cosa incredibile se pensate che parliamo di oltre 50 anni fa. Quindi un modello in cui diceva, io chiedo all'operaio uno sforzo, questo sforzo produce del valore, questo valore lo voglio condividere con tutta la comunità. Quindi modelli come Ivrea, Pozzuoli, eccetera, e tutto questo era altamente competitivo, perché ragazzi l'Olivetti era la numero uno nel mondo. C'era il presidente, non mi ricordo di quale impresa americana, che diceva che quando vedevano Olivetti in una vetrina si toglieva il cappello, perché erano delle macchine straordinariamente belle ed efficienti. Lui aveva questa visione molto politica, quindi l'impresa come strumento di sviluppo di un territorio. Probabilmente lo poteva fare perché allora, non lo so, è difficile oggi immaginare, anche se io vi ho portato un esempio attuale di questa visione. Chiaro che in un momento in cui, stiamo parlando dell'Italia negli anni 50-60, il lavoro coincideva con il benessere sociale, era più facile, perché comunque c'erano dei margini, anche se non facevano tutti così, perché c'erano i padroni che sfruttavano biecamente. Questo era un'eccezione. è il cannone papale, a che ora spara? Alle sette, alle sette e mezza. Allora, no, 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 ah perché dice quello è arrivato dal nord, fate lo scherzo, tocca, benvenuto. Allora dicevo, era relativamente facile creare questo connubio, però lui era un politico, si candidò alle elezioni, entrò in Parlamento, cioè la sua aspirazione era quella di trasformare questo modello in un modello politico di sviluppo della società. Poi purtroppo la morte prematura l'ha impedito, anche se questa linea di pensiero è continuata e sicuramente oggi, guarda caso, un altro piemontese, non so se voi conoscete Farinetti di Italy, secondo me sta, qui c'è Italy? No, a Bari. Secondo me, io ripeto su queste cose non è come dire nero-bianco, opinabile, magari voi potete anche dire la vostra, è uno che sta interpretando questo concetto di rapporto col territorio, perché Italy per me è la costola di Slow Food, cioè Slow Food è una filosofia che dice il cibo inserito nel suo territorio, è nata in contrasto ai fast food, quindi ai McDonald's eccetera, ma è nata con una filosofia che è il cibo, tradizione, cultura, radicamento col territorio, ricchezza, il cibo industriale è standard. Con rispetto parlando, un formaggio industriale si mangia, però i meravigliosi formaggi che avrete anche qui voi, le burratze, è tutto un altro mondo. È chiaro che se la cultura va verso il fast food, butto giù quello che c'è, spendo poco e perdo completamente il rapporto col territorio che sta dietro al cibo, perché il cibo se tu lo vedi come elemento nutritivo e basta, allora ci mangiamo una pillolina, abbiamo risolto il problema delle proteine e delle vitamine e siamo a posto. Se tu lo vedi come espressione di una cultura, lo vedi inserito nel suo territorio e allora lì il concetto di chilometri zero, il concetto di... Ah prego. Come no? Parlo solo io. Il concetto di torno è sicuramente vero, però se è proprio un po' questo, perché siamo veramente all'arrivo, però abbiamo dovuto promuovere in ogni città l'eccellenza locale, invece in realtà lì promuove l'eccellenza italiana, lì sono lì, però a Roma, siamo anche a lì, un po' delle altri, anche a Roma è una maggiora, quindi è comunque Alcuni prodotti sono quelli di lavare le spedizioni che si trovano meno normali sui mercati, quindi il dirigente non so, ma c'è il direttore, magari da un punto di vista ideale, però il dirigente è, come dice lei? No, diciamo che nessuno è perfetto, quindi è migliorabile, è chiaro che lui lo fa in una dimensione industriale che non può essere quella dei farmer market, cioè lui ha trovato una soluzione discutibile anche, perché quello che dice lei è sacrosanto, a cui probabilmente c'è in certi prodotti, in altri no, adesso non sono un conoscitore nel dettaglio della gamma Italy, però da quello che ho potuto constatare io, lui ha, tra virgolette, industrializzato a livello italiano trovando una forma di compromesso tra il formaggio fatto in modo industriale e un formaggio fatto in modo più artigianale, che però, siccome anche a Roma vogliono mangiare il grano a padano, gli porta, così come a Torino gli porta il pecorino o la burrata, questo sì, cioè è chiaro che una, come dire, un'interpretazione più ortodossa potrebbe portare, però probabilmente si scontrerebbe, bisogna chiederlo a lui, con una sostenibilità economica, quindi forse lui, non mi sentirei di paragonarlo a una multinazionale di cui non facciamo i nomi perché siamo in streaming, per cui poi magari non vorrei mai che non diventassero i miei clienti, però, però, diciamo, è chiaro che se uno dice, no, guarda, per me lui non va bene, vado a fare la spesa al farmer market e lì, e lì... No, 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 lui i primi li ha fatti in Italia, poi li ha esportati nel giro per il mondo. No, lui, lui, diciamo, sul tema chilometro zero ti posso dar ragione, nel senso che alcuni prodotti sono locali, sicuramente fa meno chilometri perché non trovi le primizie che... sicuramente parliamo di cibi italiani, poi è chiaro che portati... Beh, insomma... Sì... Beh, una... chiaro, quella esotica, però diciamo che comunque lui ha una gamma piuttosto robusta di cibi prodotti, diciamo, in maniera... Cioè, lui sta cercando di fare la miglior qualità a un prezzo accessibile, dicendo che, essendo l'investimento per il cibo, oggi, il 15-20% della spesa media di una famiglia, no, perché spegniamo molto di più in telefonini, macchine, eccetera, e dice, guarda, magari mangi qualcosa meno, che ti fa pure meglio per la salute, però la mangi, cioè, vuol dire, un chilo di carne di un certo tipo, o di pesce di un certo tipo, o di formaggio di un certo tipo, sotto una certa cifra non la trovi qui, perché non sai neanche come viene prodotto, no? Quindi ha cercato un compromesso. Ecco, la cosa bella di quando si parla di questi temi è che la verità non ce l'è in tasca nessuno. Lui ha cercato un compromesso che io interpreto come figlio di un approccio, diciamo, di tutela del territorio, perché più che parlare di chilometro zero, lui parla delle tradizioni del cibo, ti fa vedere tutta la, soprattutto la biodiversità, no, della frutta, va a recuperare queste cose, va a recuperare le tradizioni artigianali, per cui magari nei vari negozi c'è il panettiere che fa il pane di Altamura, piuttosto che, quindi diciamo che rispetto a una grande distribuzione normale si vede un po' di differenza. L'UXOttica è un bel esempio soprattutto per quanto riguarda il personale interno, lui ha una certa attenzione al welfare aziendale, infatti... Cucinelli è un esempio di azienda che pur lavorando cashmere, quindi andando a prendere prodotti, però so che ha dei sistemi di tosatura di un certo tipo, quindi sono aziende che fanno, come dire, del radicamento col territorio perché fondamentalmente, come dire, l'impresa può essere vista in relazione al suo territorio come un essere vivente che può creare dei danni oppure può raggiungere una simbiosi, un equilibrio, no? Secondo le teorie di Olivetti, secondo lui una città non dovrebbe superare i centomila abitanti per essere considerata sostenibile, perché diceva che oltre si andava incontro a tanti aspetti negativi, per cui... Ecco perché io dico Italy, perché Italy cerca di riappropriarsi di quel rapporto fra città e campagna che c'era fino a pochissimi anni fa, perché, come dire, l'agropontino romano dava da mangiare a Roma e si trovavano dei prodotti di un certo tipo, qui, figuriamoci, avete, come dire, tavoliere, le murge, siete immersi nella campagna, ma anche la campagna a Milano, la campagna non esiste più, soprattutto nelle città del nord, no? Cioè uno, ci sarà capitato di fare un viaggio in macchina da Milano a Verona, non c'è più un chilometro con un pezzo... Allora, questo rapporto è venuto meno ed è stato sostituito dai prodotti industriali, che hanno i loro pregi, perché io non sono quello che c'era tutto a mano, voglio il botulino, è più probabile che te lo produci in casa quando fai i carciofi sott'olio tu, che in una multinazionale, no? Perché le regole igieniche sono regole igieniche, voglio dire, i controlli di qualità che c'è in un'industria alimentare, l'industria alimentare ha prodotto tantissimi, come dire, benefici, il fatto di igiene, di conservazione del cibo, eccetera, eccetera. Ecco, però chiaramente se estremizzata può produrre dei danni, quindi in termini di perdita di gusto, di varietà, eccetera, eccetera, perché, voglio dire, quello va, quello si vende, si produce, tutto il resto si fa tabula rasa, no? E la perdita di biodiversità nel cibo è una perdita culturale di ricchezza e di impoverimento. Ecco, tornando ai nostri modelli, ecco, le teorie integrative sono quelle che sostanzialmente lavorano sulla ricerca di una reputazione, una licenza a operare, cioè quando un'impresa entra in conflitto con i suoi stakeholder a un certo livello può essere messa in discussione la sua licenza ad operare, no? In questo momento le banche non hanno una grande reputazione, licenza di operare, no? Bisogna nazionalizzare, non prestano i soldi, cioè ci sono dei momenti storici in cui certe aziende vengono messe in discussione, proprio in termini di sopravvivenza stessa, perché socialmente non vengono ritenute più all'altezza del compito che è loro assegnato. Quindi fondamentalmente questo tipo di, come dire, impostazione della CSR è figlia della teoria degli stakeholder di Freeman, per cui l'azienda lavora con lo stakeholder management, cioè gestisce le relazioni con i propri stakeholder in modo tale che si garantisca un livello di relazione positivo che non interferisca con l'operato. E in questo, signori miei, la comunicazione è fondamentale. Per cui guardate con attenzione le teorie integrative perché si basano sull'analisi di che cosa? Di quali sono i miei stakeholder sulla loro classificazione in termini di rilevanza, perché quelli che avete visto prima sono le macro-categorie, no? Azionisti, dipendenti, eccetera. In realtà un intervento di responsabilità sociale basato sullo stakeholder management prevede che cosa? Capire quali sono i tuoi stakeholder di riferimento attraverso interviste con i manager o con la pubblica opinione. Una loro mappatura in termini di rilevanza, quelli che pesano di più, e una loro analisi in termini di stato della relazione. E lì interviene il tipo di comunicazione. Perché se tu hai uno stakeholder importante con cui sei in conflitto, è inutile che gli fai il depliantino e gli dici che sei bello, bravo e buono. Non è come quando hai litigato con la moglie, no? E te li tira dietro. Non sei credibile. Forse devi agire con una comunicazione più direzionale, no? Cioè non puoi informare. Tu puoi limitarti a informare qualcuno che ti crede, con cui vai d'accordo, ok? Quando sei in crisi devi ricercare il consenso. Allora il consenso non lo fai con la brochurina, non lo fai con la pubblicità. Lo fai magari col dialogo, con l'incontro, lo fai con i blog, lo fai con la comunicazione interattiva. Per cui, secondo me, per voi questo, come dire, questo ceppo di responsabilità sociale è forse quello più interessante. Perché si porta dietro tutta l'attività di comunicazione. Perché alla fine cosa significa comunicare? Significa capire con chi è a che fare, la sua rilevanza, capire lo stato, come tu sei percepito da lui, in che tipo di relazione sei e che tipo di argomenti interessano a loro. Per cui se tu ti siedi o mandi una comunicazione a qualcuno che vuol sentire parlare di diritti umani e gli parli di quanto è bello il tempo oggi, è evidente che entri in conflitto. Cioè, quando ci sono delle situazioni di conflitto, come può capitare, che ne so, per una fabbrica che ha una TAV, voglio dire. Cosa ti fai? La brochure sulla TAV? No, devi andare e convincere quelli della Val di Susa che gli passa sulla testa che è una cosa buona e giusta. Perché se tu gli mandi il bilancio sociale della TAV, questi fanno una pigna e te lo tirano in testa. Giusto? Quindi, qui è molto importante lavorare sullo stato della relazione. Ecco, parlando di esempi, guardate qua, sono degli esempi dove il tema della relazione, ovviamente, le petrolifere, no? Non so se vi ricordate quella campagna Fouché, la Falla o Exxon, Beyond Petroleum, che diceva noi andiamo oltre il petrolio, mi pare. Sì, la Exxon, quella che poi è finita nei guai per la piattaforma nel Golfo del Messico. Cioè, qui bisogna fare attenzione perché ci sono ovviamente delle attività che hanno degli impatti talmente presenti sul territorio dove la comunicazione edulcorata può essere addirittura controproducente. Cioè, se andate a parlare agli abitanti della Valle dell'Agri, dell'Eni, probabilmente lo stato della relazione di quei signori lì non è il nostro. Perché loro ce l'hanno in casa e patiscono le conseguenze anche negative di una presenza sul territorio di un'azienda molto impattante. Per cui, questo tipo di attività è sempre, vale per tutti, però, diciamo, è sempre molto legato a quelle imprese che fanno della presenza sul territorio il loro elemento fondamentale, le banche. Unicredit, ad esempio, per cercare di stare, poi non ho detto io, faccio degli esempi, poi a voi giudicare se funzionano o no. Unicredit, per cercare di stare vicino ai territori, ha creato dei comitati territoriali, cioè dei gruppi di stakeholder che rappresentano, credo che esistano anche in Puglia, perché esistono a livello regionale e anche provinciale, quindi degli stakeholder che sono i rappresentanti degli industriali, i rappresentanti della famosa società civile, che in un certo senso non è che governano la banca, perché quella la governano i manager, però hanno un'azione consultiva e di stimolo per far arrivare quelle che sono le esigenze di quel territorio specifico che è diverso, le murge sono diverse da Taranto e sono ovviamente diverse da Roma, Milano, Torino. Ok? È tipico, per esempio, questo atteggiamento delle aziende municipalizzate o territoriali. Noi stiamo facendo un grosso progetto per ERA, che è la società municipale emiliana, romagnola, dell'acqua, il gas, eccetera, eccetera, che essendo nata come società del territorio, perché erano le varie aziende del gas, dell'acqua che sono aggregate, ovviamente non dico quasi ogni comune, ma ogni provincia o macro vorrebbe avere voce in capitolo. Allora, siccome questa cosa non è più possibile perché nel Consiglio di Amministrazione non puoi fare l'assemblea di 700 persone, stiamo creando un sistema di governance, il mio collega ci sta lavorando, per fare in modo che le istanze del territorio siano tenute in debita considerazione nella gestione dell'impresa, per mantenere questo rapporto col territorio. Questo può capitare, ad esempio, per una banca di credito cooperativo, per farvi un altro esempio, che è un'altra banca che almeno sulla carta dovrebbe tenerci al territorio, perché io mi aspetto che, come ne so, la filiale di Bitonto, di Unicredit, tutto sommato segua delle direttive che arrivano dalla casa madre, ma la cassa, credo che ce l'avete anche voi, le banche di credito cooperativo delle murge dovrebbero essere, come dire, un orecchio potente sul territorio, perché altrimenti perdono quella che è la loro caratteristica distintiva. Quindi in questo la comunicazione è fondamentale e fortunatamente diciamo che il web aiuta a gestire rapporti bidirezionali su scala industriale, mentre una volta questo non era assolutamente possibile. Oggi, attraverso i blog, insomma, tante cose di cui voi siete più esperti di me, si possono governare questi fenomeni e portarli a un livello di ascolto che poi può influenzare le decisioni. Ripeto, in certi ordinamenti, come quello tedesco, addirittura lo stakeholder dipendente siede nella stanza dei bottoni e nomina dei consiglieri di amministrazione. Questo è un caso abbastanza unico in Europa, mi pare. In Italia non ci sono esempi di questo tipo, perché poi quando ci sono queste cose si mette sempre di mezzo la politica. Venendo invece all'ultimo esempio, ecco, le teorie etiche sostanzialmente dicono «Questa cosa va fatta perché è giusta». Cioè, non è questione che conviene o non conviene, è giusto. Cioè, si deve lottare contro la fame nel mondo, si deve lottare contro la violenza sulle donne, si deve lottare contro tante cose che uno ritiene giusto per i valori che rappresenta. Possono essere giusti per te, non giusti per qualcun altro. Io, ad esempio, in questo momento sto lavorando un progetto molto interessante che molti trovano che più etico di così si muore perché è espressione diretta del Vaticano. Quindi diciamo che uno può essere d'accordo o meno con i valori del Vaticano. Ma è nato, io lo chiamo il Google del cattolicesimo. Cioè, ci sono mezzo miliardo di credenti online che si collegano a qualche centinaio di migliaia di siti che parlano di valori cattolici, che vanno da siti come Santi e Beati, dove uno trova tutto quello che voleva sapere di più su il santo del giorno, siti dove preghi, ci sono delle app, il presidente di questa società con cui stiamo ha inventato iBravery, che è l'app per Apple per pregare, scaricata in quante decine di milioni di pezzi, come si dice, di download, di applicazioni. Allora, loro che cosa hanno fatto? Stanno cercando di portare la pubblicità su questi siti. Hanno creato Ad Ethic, cioè la pubblicità etica. Pubblicità etica perché? Perché è rispettosa di certi valori, discutibili se volete, perché i valori della Chiesa però sono quelli la famiglia basata sul matrimonio fra un uomo e una donna, quindi non troveremo mai la pubblicità di Ikea dei due gay. A voi può sembrare tranquilla, però lì sopra no, non troverai mai la pubblicità di un'azienda farmaceutica che fa anticoncezionali, non troverai mai la pubblicità di tutta una serie di prodotti che noi abbiamo, come dire, abbiamo fatto uno screening positivo. E poi c'è una valutazione della creatività, però dove sta l'eticità dal loro punto di vista? Sta nel fatto che stanno portando i valori cattolici all'interno della comunicazione, perché questo progetto discende direttamente dalla fondazione per l'evangelizzazione attraverso i nuovi media. Cioè, il fatto che il Papa sia su Twitter non è un caso, perché hanno detto che l'evangelizzazione si fa anche lì. Quindi è partito questo progetto. Questo progetto ha un sito portale che sta aggregando, che si chiama Aleteia, che è verità in greco, mi dicono. Io ho fatto ragioneria e basta, purtroppo. Quindi è un sito che aggrega vari siti e quindi eticità perché vogliono contaminare i linguaggi della pubblicità, rendendoli a loro modo meno volgari, più rispettosi della cristianità. Ed eticità perché tutti gli utili di questa iniziativa andranno in beneficenza. Innanzitutto, voi sapete meglio di me come funziona Google, cioè il sito Santi e Beati che muove Tot Click, riceve tot pubblicità in funzione della sua rilevanza dal punto di vista della comunicazione. E quei soldi finiscono in mano a organizzazioni religiose, conventi, parrocchie e compagnia bella. Perché dietro questi siti poi ci sono questi signori qua. Gli utili della concessionaria pubblicitaria, al netto delle spese di funzionamento, finiranno in opere di beneficenza. E' nato un comitato etico che avrà il compito non solo di decidere se la pubblicità è etica o non lo è. E' ovviamente presieduto da un prete questo. E' da personaggi, ma non solo, ci sono anche laici voglio dire, perché chiaramente esistono come dire due noccioli dell'iniziativa. C'è ADCAT che è la parte più cattolica, ma c'è ADETI che è la parte più valoriale. Questo discorso potrebbe aggregare anche i siti di enti non profit che hanno lo stesso identico problema. Noi lavoriamo per ActionAid. ActionAid ha il suo sistema di valori che, non mi metto a discutere il merito, ma è né più né meno così severo di quello della Chiesa. Cioè è diverso perché a loro gli anticoncezionali vanno bene e alla Chiesa no. Ma ADETIC le banche armate non vanno bene. Beh, scusate, ActionAid. E anche ActionAid ha il problema di accettare pubblicità sul suo sito. Ma voi lo sapete meglio di me quanto può... C'è gente che si è arricchita grazie al sistema di Google, no? Perché sapete come funziona? Se io mi chiamo Giallo Zafferano, per dire, tre sciure che si sono messe a fare le ricette, grazie attuali, molte, beh, queste sono diventate ricche. ricevono fior di quattrini in base alle visite e alla pubblicità che arriva lì sopra. Allora, provate a immaginare questo sistema che va a inondare anche dei siti che parlano di valori e che ovviamente prima di accettare una pubblicità si chiedono da dove viene, chi l'ha fatta, di che cosa parla e come parla. È chiaro che è più comodo dire non la voglio. Ebbè, il problema è risolto. Cioè, oppure mi faccio solo la pubblicità dei viaggi a Lourdes e dei crocefissi commemorativi, va bene. Però, vuol dire, il mercato dei viaggi a Lourdes e dei crocefissi commemorativi è quello che è. Cioè, voi avete idea dei numeri che stanno dietro Google? Cioè, se capitalizza 400 miliardi di dollari, ci sarà un perché. Cioè, questi signori qua stanno crescendo a una velocità spaventosa. Cioè, la pubblicità online oggi rappresenta in Italia centinaia e centinaia di milioni di euro. Stiamo parlando di un mercato complessivo della pubblicità in Italia di 7-8 miliardi, ok? Ma l'unico che va su è quello, perché i giornali, le televisioni, cioè tutti i media tradizionali stanno implodendo. L'unica che cresce è quella. Allora, se questo trend continuerà, io non vedo perché dovrebbe interrompersi, chiaramente è etico o non è etico porsi il problema di come intercettare queste risorse e usarle per fini nobili, caritatevoli, e influenzare anche il tipo di messaggio, cosa che secondo me in Italia c'è anche di bisogno, perché noi non siamo proprio dei mostri di creatività. Cioè, quando si tratta di vendere qualcosa, poi le immagini stereotipate, no? Donne più o meno, cioè l'uso che si fa dell'immagine femminile nella pubblicità italiana mi pare che sia piuttosto consacrato, no? Quindi, quando ci sono poche idee, si sparano segni e gambe, diciamo, e viceversa. Quindi, le teorie etiche non si pongono su dei problemi economici, perché è evidente che nel caso di Ad Etic, il presidente del comitato etico non dirà, vabbè, mi danno un milione di euro stavolta la pubblicità dei gay l'accetta. Perché non c'è prezzo che tenga. Cioè, fin tanto che la Chiesa sarà su queste posizioni, magari poi cambia, perché c'è ogni tanto delle aperture, no? Fin tanto che è su queste posizioni non l'accetterà mai. Il dolore avviene prima di tutto, no? Si fa perché è giusto. Quali sono gli esempi che qui vi ho portato? Banca etica. Banca etica ha il suo modo di fare banca che è diverso da quello delle banche normali. Per cui, nella sua eticità, la sua eticità si traduce in una serie di comportamenti aziendali che sono, ad esempio, non si finanziano le industrie degli armamenti, non si finanziano le industrie estrattive. Cioè, loro hanno un sistema di screening. Assolutamente. Ci sono rapporti... Abbiamo lavorato per Etica SGR. Il rapporto tra il direttore generale e l'ultimo assunto sarà di uno a quattro, uno a cinque. Uno è un dirigente, guadagna bene, poi sono trasparenti, gli abbiamo fatto il bilancio, uno guadagna bene, ma non è che guadagna cinquanta volte il suo collega. Cioè, viene riconosciuto il merito, eccetera, eccetera. I soldi vengono prestati spesso al non-profit. Cioè, Banca Etica è nata per finanziare non-profit, perché non-profit non è mai stato finanziato da nessuno, in quanto non essendo patrimonializzato aveva bisogno di altri criteri, no? Di valutazione dell'affidamento. Poi, grazie a Banca Etica è nata anche Banca Prossima, d'Intesa San Paolo, che è andata dietro, no? Però il loro modo di fare banca è diverso, certamente. Cioè, tu... Io sono socio di Banca Etica da tantissimo, se tu compri i loro quote di fondi di investimento, sai che compri determinate aziende e non altre. Se cerchi solo l'interesse più alto in assoluto, non guadagna, l'interesse più alto è quello di tutti, loro dicono. Quindi non è l'interesse che prendi tu, perché hai comprato le quote della società che fa il nucleare, in questo momento tirano di più, ok? Per fare un esempio, diverso, non so chi di voi conosce Patagonia, che è un'azienda che vende abbigliamento sportivo. Patagonia è stata fondata ed è gestita da questo imprenditore che ha le sue idee molto precise e fa delle pubblicità di questo tipo. Cioè, non comprate questa giacca. Perché lui dice, allora, se questa giacca non vi serve, non compratela, perché una giacca impatta sull'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi fa un atteggiamento anticonsumistico, e quindi vuole educare il consumatore ad un uso responsabile dell'abbigliamento che sia rispondente a dei criteri etici. Poi lui anche destina buona parte dei guadagni in pubblicità, scusate, in pubblicità, l'apsus, in beneficenza, per cui spesso si trova un po' questa similitudine. Chi fa beneficenza è etico. In realtà, Lehman Brothers faceva molta beneficenza. Quindi io ci starei un po'... Anche BNL, voglio dire, è discutibile, diciamo. Certamente, mettere i soldi in opere, tra virgolette, di bene e beneficenza, per il luogo comune, è una cosa etica. Diciamo che bisogna anche guardare dietro quello che c'è e guardare i comportamenti. Chiaramente un'azienda, come hai citato BNL, forse perché è impiccata negli armamenti, non so se lo è ancora, lo era ai tempi. Ecco, quello che conta, e ritorniamo a bomba, è la trasparenza e la comunicazione. A me può anche stare bene. Cioè, a me. Io devo sapere che BNL aiuta Teleton, ma che ha finanziari armamenti. Poi, io non sono per lo stato etico, se no è la sciaria, voglio dire. Attenzione, che quando l'etica si estremizza, si finisce poi, no? A lapidare, tagliar mani, piedi, eccetera. Attenzione, ecco. Coerenza è libera scelta del consumatore. Cioè, quello che deve esserci è la trasparenza. Guarda che qui, io sono etico per questo e questo e questo motivo. E torno a bomba. Oggi, non puoi più dire sono etico perché faccio beneficenza, perché ti impallinano dopo tre secondi. Ecco perché la comunicazione responsabile deve andare a vedere cosa c'è sotto, perché altrimenti ricordatevi sempre l'uccellino di cui prima. Ecco, per concludere questo ragionamento e poi domani lo riprenderemo su cose un po' più tecniche. Allora, tutto quello che abbiamo visto molto rapidamente ovviamente nella realtà si trova spalmato in situazioni molto diverse. Qui, per necessità, abbiamo fatto dei ragionamenti così schematici, spero graditi e chiari soprattutto perché credo che poi la differenza su queste cose la si faccia anche argomentando, perché dietro uno slogan c'è un'argomentazione e spero di avervene date un po'. In realtà quello che si trova nelle aziende è una situazione un po' così come rappresento in questa ultima slide, cioè non esiste l'azienda anti-etica voglio dire, cioè perché ovviamente uno potrà dire beh, le aziende che fanno sigarette fanno male alla salute, sì, però in una visione diciamo più ampia magari lì c'è un problema di responsabilità di prodotto che oggi è stato anche normato, no? Però ci sono altri stakeholder che magari invece vengono trattati bene, cioè c'è il dipendente, eccetera, eccetera, è difficile voglio dire dare un giudizio complessivo, anche se esistono i rating etici, perché vengono misurati tutti questi aspetti, quindi quello che si trova è per lo più una responsabilità sociale informale, qualche iniziativa spot per la comunità, ho fatto un po' di beneficenza, ho fatto un'azione di volontariato per l'asilo locale, i miei dipendenti gli ho dato qualche benefit, magari gli ho concesso dei ritmi di lavoro per conciliare la vita familiare con quella del lavoro, eccetera, eccetera, ho fatto qualcosa per l'ambiente, poi si passa a un livello un po' più diciamo strutturato e quindi uno comincia a dire ok, mi do un codice, cioè in questo codice metto le mie regole, poi magari questo codice uno se lo scrive con i propri dipendenti, con i propri stakehold, cioè quali sono le regole e i valori in cui noi ci riconosciamo molto spesso le cooperative sociali ce l'hanno, molte aziende hanno questi codici, ma oggi anche imprese ce li hanno e cominciano a rendere conto di quello che fanno in un bilancio sociale, in un bilancio di sostenibilità, i bilanci sociali ormai sono cresciuti ecco a livello grandi, medi e piccole aziende perché non è che fare un bilancio sociale ci sono queste linee guida, le leggi, i telestudio, ne fai uno, due, tre, dopodiché sono strumenti di comunicazione abbastanza come dire, che si possono sviluppare in modo abbastanza semplice, certificazioni le famose ISO mi faccio certificare ISO 14001 mi faccio certificare Life Cycle Assessment 14000 e rotti faccio l'S8000 sul rispetto dei lavoratori eccetera eccetera o faccio iniziative di cause related marketing comincio ad essere un po' anche a uscire all'esterno oppure faccio una cosa sistematica cioè comincio a avere un sistema di gestione che così come misura quanti soldi entrano in cassa perché quello ce l'hanno tutti anche chi fa il nero voglio dire monitora i guadagni perché in un'azienda il sistema di gestione economico ce l'hanno tutti però io comincio a monitorare i miei impatti socioambientali quindi comincio a avere dei sistemi di gestione che in termini tecnici si portano a casa degli indicatori oppure dicono gli anglofoni dei KPI cioè Key Performance Indicator cioè degli indicatori di come sto impattando sull'ambiente di come sto impattando sul sociale e allora li metto a confronto con quelli economici e le mie decisioni aziendali saranno un frutto di una scelta consapevole tra quello che rende economicamente e l'impatto socioambientale ho un dialogo costante con i miei stakeholder li ascolto i dipendenti i clienti cioè sistematicamente mi porto a casa le loro istanze perché come faccio a essere responsabile nei loro confronti se non li ascolto ok e faccio tutta una serie di cose che poi per esempio vanno a mettere dei sistemi incentivanti perché uno dei grandi punti deboli dei modelli di responsabilità sociale delle imprese sapete qual è fanno i codici etici fanno i modelli di gestione poi quando si tratta di dare l'aumento di stipendio te lo danno se hai venduto di più punto non è che te lo danno se hai venduto di più e hai inquinato di meno perché lì è la massima incoerenza tu puoi avere perché poi il comportamento aziendale dov'è che si traduce nei dipendenti cioè se io ho un capo ho un capo dello stabilimento che prende il bonus a fine anno perché ha prodotto più pezzi e non anche perché ha ridotto gli scarti ha ridotto i rifiuti ha ridotto gli infortuni quello lo farà solo perché ci crede ma non perché è in un'azienda perché ci crede conta ma un'azienda ha un sistema economico perché alla fine dell'anno mi dicono bravo perché hai raggiunto un obiettivo di produzione ma hai ridotto gli infortuni del 50% e ti premio per questo ragazzi lì fa proprio la differenza oppure ci sono iniziative di tipo scusate sono andato indietro innovativo dove l'abbiamo visto come dire gli esempi di prima addirittura si arriva a inventare dei prodotti come il microcredito per cui lì a quel punto lì sei proprio come dire socialmente responsabile sei nato mi vengono alcuni esempi non so se qualcuno di voi ha sentito nominare la Novamont che fa il Mater B cioè la famosa plastica biodegradabile che viene dall'amido di mais delle patate quella è nata su un concetto di sostenibilità che è quella delle bioplastiche quindi quella è innovativa dal punto di vista del DNA ecco come dicevo vari esempi alla fine quello che si trova in azienda cioè qual è il risultato finale qual è il risultato finale di questi ragionamenti di fronte al quale si trova un imprenditore fondamentalmente la responsabilità sociale ci mette di fronte a questo tipo di scelte da una parte abbiamo la convenienza aziendale cioè ci perdo faccio un pareggio o ci guadagno quindi negativa incerta presente ok convenienza dall'altro alla rilevanza sociale cioè bassa gli impatti non gliene può fregare de meno nessuno oppure alta allora in alto a destra e lì sono tutti bravi fare una cosa utile all'ambiente alla società che mi fa guadagnare chi non la farebbe ok quindi lì sono tutti d'accordo sinergie i problemi nascono di qua trade off cioè o guadagni tu o guadagni la società lì è il massimo è chiaro che un'impresa etica che dice di seguire determinati valori non avrà dubbi dirà non mi interessa se perdo io devo dare la massima rispondenza alla rilevanza sociale quindi per venire alla vostra applicazione una delle cose che vi dovete chiedere quando vi trovate all'interno di un'azienda è dove siete capitati perché a seconda di dove vi collocate scusate noi consulenti abbiamo sempre la mania di far schemi ma servono per ragionare no? però chiari per voi a seconda di dove vi trovate potete spingere la comunicazione da una parte perché se voi fate un ragionamento etico ad un imprenditore puro probabilmente avete completamente cannato la comunicazione viceversa se fate un ragionamento di convenienza ad un imprenditore etico ce ne sono e invece state state dicendo delle cose in sintonia per cui non esiste per chiudere non è che esista la responsabilità sociale come sempre cioè magari vi aspettavate delle verità e invece vi riempio di dubbi cioè non esiste un modo per fare queste cose ne esistono almeno quattro avete visto ok? i bravi comunicatori i bravi consulenti i bravi gestori sono quelli che capiscono in quale contesto si trovano e usano quindi la comunicazione in funzione di questo contesto oppure uno può farsi anche uno scrupolo di coscienza e dire io per certe aziende non ci voglio lavorare cioè la cosa bella di queste cose è che uno si appassiona perché c'è l'etica di mezzo c'è la filosofia ci sono i valori per cui ci sta che uno dice no guarda io ho obiezioni di coscienza io fatemi lavorare con tutti ma con le aziende che producono armamenti io il bilancio sociale della beretta non lo posso fare ci sta voglio dire dipende se uno si mette in una posizione strumentale dice no ma perché anche la beretta i poveretti anche loro ci hanno diritto di migliorare la relazione che i propri sono di un bilancio sociale quindi diciamo che queste sono delle mappe che servono un po' per posizionare la vostra anima se volete temi è importante anche da connotazione e poi soprattutto per capire qual è la cultura aziendale in cui siete inseriti perché non c'è secondo me tema più importante nella gestione aziendale che si interfaccia con la cultura come questo perché soprattutto nelle piccole medie imprese dove ovviamente la figura dell'imprenditore è determinante e ci possono essere imprenditori per motivazioni religiose persone eccetera fortemente orientati all'etica che di fronte a dei ragionamenti anche di sconvenienza economica loro dicono no questo è giusto e dei miei soldi ne faccio quello che voglio se devo spendere soldi in più per migliorare una condizione che c'è che magari questo non porti alla ruina all'azienda però come dire è il prezzo che loro sono disponibili mentre in altre situazioni chiaramente la convenienza aziendale che vi posso dire è che un compromesso lo si trova sempre ecco io come dire in tante situazioni mi trovo in crisi perché chiaramente non so mai quando o quanto sia veritiero quello che ti viene fatto fare però per chiudere con una notazione personale io mi sono spostato dall'attività nel mondo non profit a quella profit perché fondamentalmente magari sbaglierò ho detto la mia personale missione è quella di migliorare un po' le cose allora se tu cambi il modo di approvvigionarsi di un'impresa multinazionale probabilmente se ottieni dei risultati dal punto di vista aziendale pari a quelli che puoi ottenere lavorando al WWF come dire sono due lati della stessa medaglia nel gioco di ruolo ci fa il WWF o Greenpeace che attacca e chi come me consiglia le imprese a migliorare su queste prestazioni quindi alla fine forse lo dico per accontentarmi non mi pare di aver cambiato completamente idea cioè c'è sempre la volontà per creare un valore che non sia economico spostato semplicemente di posto anche se poi alla fine lavorando su questi progetti hai sempre a che fare col mondo sociale ambientale eccetera eccetera i progetti finiscono di lavorare con questa realtà quindi se non ci sono eccetera lei brava certo 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 sicuramente sicuramente internet il web è un motore eccezionale di questi cambiamenti perché quando la comunicazione era unidirezionale quando diciamo proprio papale papale la comunicazione aziendale era in grado di comunicare un po' quello che voleva comunicare e la controinformazione era limitata come dire era più facile per un'azienda occultare certe verità oggi 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 è come svuotare il mare con un cucchiaio cioè di fronte poi ripeto non è che quello che c'è sul web è tutto vero a volte si leggono anche delle stupidate inenarrabili perché guardate che quando poi uno io sono stato sono quando uno poi mette le mani nelle cose non è così ad esempio parlando di pesca sostenibile c'è questa fondazione che è stata creata dalle principali aziende ittiche tra cui Bolton il WWF eccetera che sta dando delle regole una delle regole è che sulle navi peschereccio ci devono essere degli osservatori indipendenti voi avete idea di quante persone servono per stare su tutte le navi che pescano tonni nel mondo parliamo di migliaia di persone quindi uno non può dirmi trovale cioè uno che sta 3-4 mesi perché voglio dire le purseiner sono navi che stanno fuori dei mesi per cui non è che uno non lo vuole fare è che poi a volte è complicato farlo nei tempi magari rapidissimi che pretende un ambientalista sfegatato cioè a volte non è così semplice è assolutamente complesso per cui l'importante è che ci sia la volontà di farlo e però bisogna avere anche la pazienza cioè non è che chi lavora nelle aziende sono dei passi criminali voglio dire anzi su questi temi poi si si instaurano anche delle relazioni meravigliose dal punto di vista umano perché quale manager voglio dire non ha più soddisfazione nel fare bene il proprio mestiere no migliorando le condizioni di vita cioè a parte qualche pazzo scatenato la gran parte delle persone sono d'accordo con questa posizione il problema è che questi dilemmi che qua vedete cerchiati di azzurrino purtroppo sono le cose con cui uno si confronta quotidianamente e non è sempre così facile trovare delle soluzioni perché tocco un altro argomento scabroso il lavoro minorile allora cioè in certe culture io vengo dal Trentino Alto Adige e raccoglievo mele che avevo nove anni per cui ma non mi sento per questo vessato dai miei genitori i quali mi hanno comunque mandato a studiare mi sono laureato eccetera eccetera però voglio dire in tutte le culture agricole del mondo il ragazzo o la ragazza ha sempre dato una mano in famiglia non è che puoi mettere in galera un genitore perché manda il figlio raccogliere le olive e figuriamoci nei paesi via di sviluppo allora se prendiamo questa cosa in maniera rigida noi mettiamo in difficoltà le famiglie perché cosa deve fare quel contadino assumersi un bracciante perché suo figlio di 12 anni abbiamo deciso che non può raccogliere le olive capite che no faccio un esempio è chiaro che se quel bambino è stato venduto a un mercante di schiavi legato in certe situazioni è un conto però non si può mettere una riga e dire più di 16 anni si lavora meno di 16 anni è sfruttamento di lavoro minorile ovviamente su queste aree di grigio c'è chi ci marcia e c'è chi invece fa i conti con la propria coscienza e cerca di trovare delle soluzioni spero di essere riuscito a trasmettervi il messaggio che non è così scontato è semplice quindi voi che vi occuperete di comunicazione di certi argomenti cercate di andare un po' a fondo mi piacerebbe che dopo questi due giorni vi portate a casa il desiderio di approfondire magari e di fronte magari ad un brief particolarmente bello evocativo di un imprenditore magari facciate le domande giuste ma non perché vi dovete mettere a fare gli intransigenti ma perché lo aiutate in quel momento lì a ragionare su degli aspetti a cui lui non aveva mai pensato vi chiudo con un ultimo esempio che forse vi ricorderete a questo punto a noi fece quella bella campagna di bellezza autentica ne vi ricordate quindi una campagna assolutamente responsabile dal punto di vista del linguaggio dei valori del rispetto eccetera peccato che quelli del marketing non si erano preoccupati di sapere da dove veniva l'olio di palma che usavano nei cosmetici che era la principale causa di deforestazione del borneo quelli di Greenpeace che sono meravigliosi a ribaltarti le cose hanno fatto una campagna con gli orango che li hanno sbertucciati in tutto il mondo perché chiaramente io sono convinto che quelli del marketing della pubblicità di DAV avevano fatto un ragionamento responsabile però le aziende sono così complesse che loro presi dai sacro fuoco di questa creatività che innovava eccetera si sono dimenticati di guardare semplicemente se c'era qualche scheletrino nell'armadio e quindi lo scheletro la famosa storia dell'uccellino è venuto fuori perché figurati te quando quelli di Greenpeace vedono uno così si buttano giustamente perché fanno loro dovere hanno detto scusate un attimo le donne vanno bene ma gli orango del borneo che stiamo radendo al suolo per procurare l'olio di palma poi hanno trovato la soluzione coltivazioni rinnovabili l'hanno trovata la soluzione però una cosa molto bella si è trasformata in un boomerang perché non avevano soppesato tutti gli aspetti quindi domani li vedremo un po' più nel dettaglio questo è un po' il briefing che ricevete su questi temi vi dovete guardare ben bene magari non subito rispondere ma ve li portate a casa provate a farvi voi le domande giuste consultando internet si riescono a trovare delle risposte vi fate una cultura e poi magari tornate dicendo ma scusa ho capito ma qui se è tutto a posto andiamo perché voi avete in mano un aspetto avete in mano la punta dell'iceberg allora se sotto è tutto bello tutto bello l'indo pulito non sarà mai però se sotto c'è una situazione sostenibile si va avanti se sotto c'è una situazione critica è meglio dire aspetta un attimo si temo e poi canto perché se no insomma vedete che la storierina dell'uccellino ve la ricordate perché va bene ci vediamo domani pomeriggio grazie a tutti Grazie a tutti.